Mare, sole, caldo, zanzare e il circo, quest'anno a Marina di Modica, ma insieme alla carovana circense arrivano anche le polemiche agguerrite da parte dei residenti che si sono visti piazzare il carrozzone a poche decine di metri dalle case. Il circo, che si è infatti installato in pieno centro abitato a Marina di Modica, è già di per sé poco profumato, ma con le alte temperature estive di questi giorni emana forti odori sgradevoli e nauseabondi, causati dalla presenza degli animali e soprattutto dagli iscrimenti di quest'ultimi. La gente non lo vuole, oltre che per la puzza, per i rischi alla salute che può comportare. E così iniziano le polemiche e le lamentele nei confronti dell'amministrazione, che però dice di non saperne nulla. Pare che il circo sotto le stelle si trovi comunque in un'area privata, con tanto di contratto, ma lambisce una cinquantina di villette unifamiliari a ridosso del villaggio Portosalbo, con residenti e turisti costretti forse a conviverci fino al prossimo 5 agosto. con animali che lasciano i loro bisogni sul suolo. L'area interessata si trova in via da Mosto, un centinaio di metri da Piazza Donatello e Viale Giovanni da Verrazzano, in un'area privata ma di uso pubblico, non recintata, utilizzata solitamente come parcheggio, ora trasformata in circo sotto le stelle e non solo.